Da tre anni il senso di marcia di Via Rossini è stato invertito, dirottando tutto il traffico da San Paolo a Via Pistoiese per questione di sicurezza. A giudicare dalle difficoltà incontrate dai mezzi pesanti nell'imboccare Via Pistoiese, che documentiamo con questi video ripresi con il telefonino dai residenti, la soluzione non appare tanto più sicura. Recentemente un camion è rimasto incastrato provocando lunghe file, un'automobilista rimasta imbottigliata ha accusato un malore e per far arrivare l'ambulanza non è rimasto che prendere a martellate il parapedonale a cui il mezzo si era incastrato. Per evitare episodi simili, pochi giorni fa l'amministrazione comunale ha trovato un rimedio. Sono stati tolti circa 10 posti auto nelle immediate vicinanze dell'incrocio attraverso l'installazione di parapedonali a filo del marciapiede in modo da impedire la sosta e garantire lo spazio di manovra ai camion. Secondo Roberto Kelly, che abita proprio davanti all'incrocio e secondo il comitato Macrolotto Zero, la toppa è peggio del buco. Perché la svolta resta complicata e si tolgono parcheggi preziosi favorendo comunque la sosta selvaggia. Si leva la sicurezza della zona suole Giardini di San Paolo e la si mette in via Pistoiese. Come potete vedere c'è la fila anche normalmente senza dover mezzi incastrati perché questa è una strada trafficatissima. Il presidente del comitato Macrolotto Zero, Bruno Gualtieri, sottolinea che questa scelta appesantisce ulteriormente un carico di traffico già eccessivo su via Pistoiese. E che rappresenta l'anteprima di ciò che vedremo quando il comune realizzerà la zona 30 nel tratto che va dal bar Scalino a Porta Pistoiese poco più avanti rispetto a questo incrocio. Il problema è che si perdano 40 posti auto e non è che facendo un parcheggio in via Nino Rota e un parcheggio alla piazza dell'Immaginario si risolve il problema. Qui ci sono anche persone anziane che non possono fare 300 metri da casa per andare a portare o a riprendere la macchina. Quindi questo sarà un inferno. Il problema è enorme. Noi abbiamo già chiesto come comitato all'assessore Barberis, prima di cementificare, di fare una prova. Grazie. Grazie. Grazie.